ciao a tutti e buon mercoledì e andiamo a vedere la tragedia che si è battuta in casa dall'inverti in queste ore e infatti andiamo a scoprire cosa è accaduto nel video blog di chiara dal titolo attimi di terrore casa allagata e corrente saltata lei è seduta a letto nella sua camera ovviamente dice che ha mal di testa che è sconvolta perché nella nottata c'è stato il diluvio una tempesta di pioggia e grandine ci dice che si è allagata la cucina che si è allagato il bagno che è saltata la corrente mancano gli alieni ma visto il tempo non si sono azzardati a farle visita in ogni caso dice che anche in camera la grandine sbatteva sulle tapparelle che erano quasi tutte abbassate c'era solo un piccolo spazio da questo piccolo spazio è entrato il diluvio universale si sono bagnate le fancopop che lei aveva sul lato destro della della camera in effetti così si era visto in un blog che lei aveva fatto tempo fa invece dice che si sono bagnate appunto queste fancopop che lei aveva sotto la finestra che cosa ha fatto le ha tolte dalle scatole perché le doveva far asciugare appunto queste scatole visto che non ci scordiamo che le fancopop sono la collezione io spero a questo punto che lei le abbia assicurate così se le scatole sono ridotte male anche se non sembra da ciò che lei ci fa vedere anzi sembrano praticamente asciutte in ogni caso spero che siano assicurate così se hanno perso valore l'assicurazione potrà risarcirla ora oltre le fancopop si sono bagnati anche dei pupazzi e dei copri piumini che non sappiamo dove le aveva evidentemente tutti sotto la finestra vai a sapere cosa ci facevano tutte queste cose lì sotto ma in ogni caso insomma si sono tutte bagnate poi ci fa vedere una pila di pupazzi sopra la scrivania di peluche che lei dice che deve rilavare io non ho capito se si sono bagnati anche questi peluche o se lei li ha messi là giusto per fare scudo contro un altro eventuale diluvio in ogni caso dice che li deve rilavare ci informa che lei stava dormendo che quando ha sentito la grandine sbattere sopra le tapparelle si è svegliata che era scattata la luce è saltato anche il salvavita è scattato il salvavita lei cosa ha fatto non ha chiamato nessuno infatti il marito dormiva si è svegliato diciamo dopo per via di questi rumori la mamma se la dormiva abbeatamente anche se una volta ci ha detto che la mamma fino a una certa ora resta a chattare con i suoi corrispondenti evidentemente non era quella la serata in ogni caso la nostra eroina cosa fa si alza dal letto va vede un attimino ciò che sta accadendo sembra che lei pulisca tutto tant'è che va anche in cucina presa dalla forza sovrumana della disperazione sposta il frigo pulisce tutto quanto quello che c'è da pulire perché anche sotto il frigo evidentemente c'è acqua probabilmente hanno lasciato la finestra della cucina aperta per far entrare tutto questo delirio dice che noi non possiamo avere idea del macello e io qui penso agli amici dell'emilia romagna e dintorni che sicuramente non avranno idea di ciò che ha dovuto subire questa povera donna voi immaginate soltanto una povera persona come lei insomma che dormiva tranquilla nel suo letto che è stata svegliata da questi forti rumori che era la grandine sulle tapparelle che si è alzata ha visto tutto allagato perché insomma così dice lei visto che si è bagnato un po tutto dice anche che il bagno era completamente allagato che la cucina insomma aveva anche l'acqua il frigo sotto quindi si è alzata non ha svegliato il marito ha asciugato tutto lei oddio le crediamo e le crediamo che non ha svegliato il marito che ha fatto tutto lei assolutamente e quindi noi non possiamo avere idea di cosa ha passato e poi torna a parlarci di questo frigo di questo frigo che fortunatamente anche se è scattata la corrente mantiene il cibo fresco anche se è spento per altre 8 12 ore e meno male altrimenti tutta la spesa insomma che avevano fatto sarebbe potuta andare a male ma così non è stato dice che il marito aveva asciugato sotto il frigo ma scusate non era stata lei cioè qualcosa non mi torna sinceramente in ogni caso il marito aveva asciugato se non il pavimento qualcosa lì nei dintorni del frigo a un certo punto stava riattaccando la corrente ma lei che ne sa praticamente delle cose subito gli ha detto no amore stacca perché ancora bagnato e potrebbe succedere qualcosa dopodiché lei la mattina quando si è svegliata perché nel frattempo comunque anche se era successo tutto sto casino dopo aver pulito dopo aver fatto questo lavoro molto pesante insomma si era comunque rimessa a dormire e la mattina quando si è alzata è andata in cucina e anche se era tutto asciutto ha preso una pezza e ha asciugato ulteriormente la presa della del frigo praticamente la spina e il filo del frigo e più anche quello della prolunga e poi ha riattaccato il tutto ovviamente ha lavato i pavimenti di tutta la casa e poi ci racconta che il bagno era completamente allagato tanto che l'acqua stava per infiltrarsi anche nello sgabuzzino ma non preoccupatevi perché non si è fatto alcun accenno agli ignomi quindi dovrebbero essere tutti salvi dopodiché ci fa vedere il balcone che ancora pieno d'acqua e ci mostra il davide che ha lavoro per raccogliere appunto quest'acqua ci dice che il balcone è una cosa allucinante e in effetti lo è ma non per l'acqua ma per tutte le cose che sono lì accatastate o anche buttate sopra questo piccolo balcone l'acqua è veramente l'ultimo dei problemi in ogni caso a raccogliere quest'acqua ci sta pensando davide perché lei giustamente ha lavorato tutta la sera a raccogliere tutta l'acqua che c'era dentro casa insomma a ciascuno il suo e mentre comunque ci racconta tutto ciò che è accaduto dice che è stata una cosa allucinante e devastante io comprendo che tante persone dell'Emilia Romagna e dintorni si sentono presi in giro da questo vlog e da Chiara ma io insomma vi invito a pensare che lei probabilmente non lo fa per sminuire tutto ciò che è accaduto a voi tutto ciò che di allucinante e devastante vi è accaduto e le cui conseguenze continuate ancora a vivere ma lei lo fa per enfatizzare tutto ciò che accade a lei cioè se si leva una pellicina a lei praticamente l'è stato fatto il trapianto di pelle quindi non vi incavolate non prendetevela ma prendete il video di questo video di Chiara perciò che è un enorme sesquipedale cavolata per non dire altro in ogni caso cambia inquadratura e la vediamo che sono dal dentista c'è anche la madre perché deve andarsi a togliere i punti e le insomma le metteranno finalmente il dente quello mobile che poi andrà sostituito cioè andrà tolto quando poi le faranno l'impianto e mentre invita la madre ad entrare dal dentista lei nel frattempo se ne va dal panettiere perché deve prendere la pizza insomma per la sera pizza che ovviamente la Luciana non potrà mangiare visto che si toglierà i punti in ogni caso cambia ancora inquadratura e la ritroviamo a casa dice che la madre ha tolto i punti che i punti erano 10 non 30 come diceva la madre ora diciamo che si spiega anche da chi Chiara abbia preso l'amore per l'esagerazione dice che non le è stato messo la protesi mobile perché il laboratorio probabilmente ha sbagliato e la protesi che l'estate che è stato recapitato al dentista per far mettere a Chiara non era la sua perché insomma non andava allora cosa hanno deciso di comune accordo hanno deciso che non faranno questo dente mobile ma faranno direttamente l'impianto verso la fine di settembre e quindi lei il dente lo porterà ancora così per un po di tempo il dente non lo porterà sarebbe meglio dire comunque lei dice che siccome è ha già stato pagato questo dente mobile 500 euro queste 500 euro le verranno scalate sul prezzo dell'impianto quindi lei aveva detto che aveva già pagato tutto dal dentista ma probabilmente così non è perché a quanto pare l'impianto lo deve ancora pagare e appunto dal prezzo dell'impianto verranno scalati questi 500 euro ribadisce che quelli della notte sono stati momenti di puro terrore ci fa vedere che ha sistemato le fanco pop a terra sul lato sinistro della finestra in modo tale che se anche piove non dovrebbero essere colpite dalla pioggia Chiara io ti faccio uno spoiler se chiudi la finestra teoricamente la pioggia non entra in ogni caso dice che aveva anche pensato di rimandare la villeggiatura ma comunque a questo punto partiranno e partiranno lei ha già comprato degli organizzatori di valigia di Hello Kitty e ci farà vedere come organizzerà la valigia per la partenza io direi so che insomma posso dirlo anche a nome vostro che non vediamo l'ora di vedere questa valigia e questi organizzatori questo è tutto io vi ringrazio per avermi ascoltata se volete lasciatemi un like se volete iscrivetevi al canale se volete lasciatemi un messaggio ciao a tutti un bacio